Dopo due stagioni ricche di risultati e di grandi soddisfazioni, le strade del Monte Catini Terme Basketball e Di Coccio Federico Campanella si separano. Il tecnico livornese ha così chiuso la sua avventura sulla panchina rosso-blu con la qualificazione play-off in entrambi gli anni, con il record di punti conquistato in una stagione e con un bilancio complessivo di 37 partite vinte e 31 pezze, dimostrando grande professionalità e preparazione. Anche per questo il divorzio è a dir poco sorprendente. Nel comunicato ufficiale la società esprime più sinceri ringraziamenti per questi due anni di proficua collaborazione e augura a Coccio Campanella il più sincero in bocca al lupo per il proseguo di una carriera che sarà sicuramente prestigiosa e di alto livello. Fra un paio di giorni arriverà il nome del nuovo tecnico termale. Per un allenatore che se ne va, uno che resta, San Mignato, anche in questo caso si parla di Serie B, la società ha deciso infatti di continuare questa splendida avventura con Coccio Federico Barzotti e il suo staff. Federico Barzotti, si legge nella mail ufficiale dell'Etrusca del presidente Alberto Parrini, sarà ancora l'allenatore della Blue Card almeno fino a giugno 2019. È cominciata così la quinta stagione di Coccio Barzotti con la formazione della Rocca, iniziata ormai quattro anni fa con la trionfale promozione in Serie B e proseguita con tre stagioni nelle quali sono sempre stati raggiunti ampiamente gli obiettivi stagionali. Confermati anche i suoi fidati scudieri Andrea Ierardi e Gabriele Carlotti.